giullare composto da tre materie il metallo del copricapo la porcellana del viso e il merletto del collo è una spilla portata per via orale presso il cenacolo umanità e movimento da gata una delle entità che si manifestano attraverso questo cenacolo gata ha spiegato che nel medioevo era un giullare che bustava al castello dei potenti per allietarli col suo mestiere che non gli permetteva mai di essere se stesso purtroppo non era mai se stesso nemmeno nella vita privata perché viveva nella più totale ipocrisia ed è appunto questa limitazione che adesso nel piano mentale fa soffrire molto questa entità molti considerano il medioevo un periodo buio perché perché non sanno che quel periodo ha prodotto evoluzione per milioni e milioni di persone e che come tutti i periodi collettivi e individuali della condizione umana è l'unico possibile perché ne parlate al presente perché il medioevo come tutti gli eventi della storia permane congelato nell'eterno presente e a che serve ad evolvere chi adesso si incarna nel medioevo come voi avete fatto